Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Inizio io? Ma da dove? Camilla? No, scelgo io, da lì, da fermo, da fermo. Un tiro in tettino, è un'idea persone che siccome hanno vinto, non ti dava mai. Bro, è in campo! Ha segnato? Ha segnato? Guarda la partita, se me la corre! dammi tre motivi validi per acquistare il tuo libro ah ma veramente ti chiami massia di quella storia che mi avete questo io quando siamo in def digio stavate in def che state a fare in def a che ore erano 8 del mattino e che state a fare te in rosso in def a 8 del mattino dove? sul letto dopo cosa? una serata valero stava dormendo possiamo dire? c'era di fianco valero ciao ragazzi come state? lei sta leccando le palle del mio cane cosa stai scrivendo? tina chi è tina? ah ma tina se sei seri se ti fai gli occhi no no occhio occhio ehi il dinosauro sta prendendo forma dinosauro vuol dire qualcosa? grazie mille per le sub lì il newt ditemi le sub ragazzi che le scrivo anzi una testa scrivite inizia come si chiama? oh questo è mi sta facendo male guarda che te ci dibanna scrivi il newt atto devi tenere gli occhi chiusi tenere gli occhi hai pitturato? no fatto? cosa è successo? vai Omar ma che cazzo fai? ma come hai fatto? ma che cazzo ci fai? che cazzo ci fai? bro ma volevo che fosse tipo una sorpresa ma infatti è diventata tutto ma stavate trombando nei bagni del uscio sasha? parca puttana parca puttana parca puttana parca traia dai mozza dai mozza dai mozza grazie mille kevin xd scusatemi aspetta grazie mille kevin xd grazie mille stavate dicendo? rosso? rosso? si oh no 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 via non mettetelo non mettetelo puttana porca puttana 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 voglio andare ok scusatemi ciao ragazzi si vedeva il cazzo? no non si vedeva il cazzo muoversi vero? devo dissociarmi altrimenti ok lo prendo come un si ciao nikki ciao martina ciao martina ciao gabriela ciao caren c'è un ragazzo che sta parlando con papà sespo e se non sbaglio eh vado da gaia cioè la gaia era seduta Gaia è lei ragazzi vado lì e le dico comunque abbiamo una cosa in comune io e te ah abbiamo facciato entrambi balleriamo a 6 era questa giusto? voi siete tanto amiche giusto? si cioè siete migliori amiche? si da quanto? 4 anni io non ho un miglior amico e non ho un miglior amico se ti prendo ti bacio cazzo meno male che l'ho detto a voi mi avete veramente supportato in questo momento poi devo dirti un segreto in realtà io mi sono fidanzato è finita 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 oh 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 vale 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 oh vale 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 oh scrive il veronico il veronico si ok sbattemi al muro vai sbattemi al muro cami cami sbattemi al muro per favore oh come si andrà partita la sto guardando io eh mamma mia frate ma che stai a fa' Non le farei mai queste cose Lu prendi Grazie mille Che video vuoi? Che video vuoi? Era la gag, non è che viva c'eravi davvero Abbraccio me lo stesso, va bene così Ma esce fuori di capo Oh di capo tu non ci stai Tu non ci stai Scusa sono veramente cattivi Stai dicendo vai, fai pure Ridono, che cazzo ridono, ma che cazzo ridono Ma che cazzo ridete Oh vedi il porno Ma scusa ma è per Allora fammi pensare Il tuo quadro da 1200 euro che appena ho comprato Dai ci sto Ha comprato un quadro Esatto Con quello con i fiorellini da 1200 euro Nel caso te ne paga un altro lui Vai Se dici Guarda Aspetta Ma mi voglio seri Ma ne esistono 300 o al servo? Voi avete Ho una domanda ai ragazzi Avete mai toccato una tetta più grande della quarta? Sì E delle palle più grosse delle mie ragazze Sapete cosa ci fa un albero in mezzo al mare? Sì Arla Si scopa vostra mamma No scherzo Sì è vero è vero è vero Ciacciato 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 Che grosso sei bellissimo